Venite come siete, Gesù Cristo ti aggetta, Gesù Cristo ti lava col suo sangue, quindi dite nel Vangelo, non ritirare il tuo cuore, perché avete quel cuore duro come una pietra, a finta di vostri cuori è importante conoscere Dio, è importante credere nel Vangelo, questo non è una religione, questo è vita eterna con Cristo, in inferno non c'è l'uscita, c'è solo l'entrata, prendetene dal Vangelo, apritevi i vostri cuori, ricevete il Signore, oggi è il giorno, fate il primo passo verso Gesù Cristo, questo non è una religione, è amore si chiama, amore, se volete cambiare il mondo avete bisogno di Cristo, abbiamo bisogno di Cristo, io mi sono pentito perché ho trovato la salvezza, Gesù Cristo è la salvezza, cari fratelli non sono arrabbiato, parlo d'un amore, pentitemi, c'è l'inferno, c'è il paradiso, ricevete il dono di Dio, la grazia di Dio è per gratis, non c'entra i tuoi soldi, non la macchina, non la casa bella, non avete la soddisfazione, la vera soddisfazione è il Cristo, questa è la parola, leggetelo, questa è la Bibbia, leggi Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo, ha mandato il suo unigeneto figlio, a chiunque crede in Cristo, sia grande, piccolo, povero, piccolo, chiunque crede, Gesù ti accetta, Gesù Cristo ti lava con il suo sangue, blessed be the name of the Lord, you know Jesus Christ is everlasting Father, Jesus Christ is the King of glory, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be safe, credete nel Vangelo, questo è la salvezza, questo è la verità, se volete amare, questo è il libretto che ti può cambiare la vita, cambiate le vite, cari fratelli e sorelle, Gesù Cristo è santo, Gesù Cristo è glorioso, Gesù Cristo è potente, leggete la scrittura, alleluia, amè, gloria a Dio, ringrazio il Padre perché Lui è santo, ringrazio Gesù perché esiste inferno, ringrazio Gesù perché c'è paradiso, quando entri non puoi uscire, entri in inferno, stai lì pensando dove andrai quando morirai, siamo tutti poveri, diciamo, dove la vita è senza Dio, non basta, non basta, hai bisogno di Cristo, Gesù ti amo, questo è il cibo spirituale, questo è il cibo spirituale, è molto buono, alleluia, lo mangio ogni giorno, amè, che bello il figlio, avete bisogno di Cristo, scusi fratello mio, attento con la figlia, non ti fa male, amè, alleluia, bacio, gli astutiamo, amè, a posto. Grazie.